Buonasera a tutti e benvenuti. Grande simpatia davvero per Luca Zaia, ma lo dico con un afflato ecco, non è una colorazione politica la mia, ma grande simpatia perché devo dire dopo l'impasse con Ira Cleonte da Gela, poeta greco mai esistito, citato sempre in ottica di emergenza sanitaria e dopo una sorta di corsa d'ostacoli alla ricerca dei congiuntivi, il dovesse fosse, fosse stato anche lì in un'intervista dove può capitare a tutti di inciampare in questo difficile percorso semantico grammaticale. Ecco, bene, bravo, sono contento, ci credo, mi piace l'idea, ma sono già piovute montagne di critiche, del tampone fai da te. Il tampone fai da te per verificare la presenza o meno, la positività o meno al coronavirus ci sta. È un'idea che ha un senso concreto e di concretezza ce n'è poca perché a livello generale parliamo di miliardi, parliamo di ristori, parliamo di vaccini, parliamo di tempi, parliamo di tante cose, ma poi stringendo ad oggi nulla abbiamo per le mani. Abbiamo invece per le mani questo tampone fai da te, questo medico microbiologo sovrintendente di tutte le varie cattedre di microbiologia veneta con la scoperta, con l'organizzazione, il confezionamento di questo tampone che il dottor Roberto Rigoli, se non sbaglio Rigoli, ha creato e ha così sperimentato, lo ha fatto lo stesso governatore davanti alle telecamere, con un piglio, un fare sempre simpatico per carità, però si sgancia, si utilizza il tamponcino, si fanno i vari accessi nel naso, poi si mischia, un po' come il classico test di gravidanza, va con le tacchette, tacchetta 1 negativo, tacchetta 2 positivo, ma davvero nell'arco di poco tempo, di qualche minuto, si riesce ad avere con chiarezza, ecco anche abbastanza forte dal punto di vista della percentuale, la coscienza e la conoscenza di essere o meno positivi al coronavirus. Questo è importante e al di là poi del battibecco crisanti, rigoli o comunque delle polemiche, sciocchezze, non vale, vale, che senso ha? O comunque anche sul fatto di dire ma fare un test in casa privatamente, lo faccio ma poi non lo dico, lo faccio ma poi ci credo o non ci credo, che senso ha? Come riusciamo a monitorare? E ci può stare un ragionamento di questo tipo, però pensiamo anche alla pressione forte, importante che se ne dica sulle terapie intensive o sugli ospedali in generale o sui posti letto in generale che abbiamo quando ciascuno di noi al minimo presunto sintomo di coronavirus va ad affollare il pronto soccorso, gli ospedali che poi comunque devono tenere questo paziente almeno in osservazione e il posto letto e la logistica e la gestione, ecco il fatto di smaltire o in qualche modo svoltire questo patos da arrivo al pronto soccorso potrebbe essere interessante e potrebbe essere anche un modo concreto, si parla già di qualche decina di migliaia di kit pronti per l'autosomministrazione del test, anche di un eventuale costo nella disponibilità accessibile a tutti, credo che il costo sia meno di 3 euro, ecco fra l'altro lo stesso Ragneri Guerra che è direttore aggiunto dell'OMS ha confermato la possibilità di avere in breve tempo nelle farmacie questi test e quindi vi è anche un avallo generale di un'organizzazione mondiale della sanità che certifica perlomeno la non assurdità, ma non è assurdo, è importante, è interessante di questo test, di questo kit per così la verifica o meno del Covid. Quindi mi sembra un'ottima idea, poi possiamo ripeto divertirci, riderne, fare le battute come così in premessa sia un po' accennato, ma è un fatto pratico, concreto, vero, attuale che funziona e che è immediatamente disponibile sul mercato e non è cosa da poco in questo momento. Grazie. Grazie.